Soddisfatto per l'elezione del dodicesimo Presidente della Repubblica, ma non entusiasta, è anche l'onorevole terramano Paolo Tancredi nel nuovo centrodestra, che pur non avendo nulla da ridire sul nome, non ha troppo apprezzato il metodo con cui è stata gestita l'elezione dal Premier Matteo Renzi. È incontestabile che è un Presidente degno e che ha una storia e una caratura che ne fanno potenzialmente un Presidente che può rivestire un ruolo di garanzia per tutti gli italiani per i prossimi sette anni. Ci sono da completare le riforme costituzionali, c'è da uscire da una crisi economica difficile, c'è il rapporto con l'Europa, sono tutte partite su cui il Presidente della Repubblica avrà un ruolo importante e noi crediamo che Mattarella, io credo che Mattarella abbia tutte le caratteristiche per essere un eccellente Presidente della Repubblica. Dopodiché il contesto da cui è uscito è un contesto indubbiamente difficile, ma che la politica si trovasse in un momento difficile si sapeva, bisogna dire che bisogna dare atto al Presidente del Consiglio, al Segretario del Partito Democratico, che ha portato a casa questa partita difficilissima in poco tempo, con una soluzione brillante e sicuramente un successo di Renzi. Noi siamo rimasti un po' perplessi sul metodo, però dopo io credo che la scelta di Alfano di aderire al voto per Mattarella sia stata una scelta giusta, la trovo giusta. Per l'Abruzzo, prospettive future, positiva? Per l'Abruzzo le prospettive future speriamo che siano positive, è legato all'economia nazionale, l'Abruzzo è all'economia europea che sembra dare segnali di timida ripresa, anche questi sono segnali che ci responsabilizzano dal punto di vista del mantenimento di una stabilità anche politica. L'Abruzzo è in cima a molti dossier su cui dobbiamo fare squadra comune. Questi giorni a Roma insieme, anche col Presidente della Giunta, sono state anche occasioni di parlare di questioni importanti. Per esempio c'è il finanziamento Cipe del Ruzzo, ci sono i soldi stanziati e da stanziare per la Ferrovia Pescara Roma, c'è la Teramo Mare che va completata, queste sono sicuramente partite importanti nel settore infrastrutture che l'Abruzzo deve sicuramente affrontare.